Sono felice di partecipare per Art a questo progetto di Marco Sabatteri che immagina una donna delle pulizie di Palazzo Abatellis che mentre pulisce la sala di questo bellissimo dipinto che è il trionfo della morte cade e ha una sorta di visione, non si capisce se è premorte o comunque ha uno stato di semi-incoscienza in cui le sembra di attraversare un tempo che può essere quello della peste, il suo presente, il futuro, il passato si confondono vive una dimensione visionaria e in questa visione le si staglia il ritratto del trionfo della morte e si confonde con esperienze personali è un progetto che dà onore all'arte proprio perché è un progetto visionario, io poi amo Palermo profondamente, amo Palazzo Abatellis e quindi la possibilità di essere chiusa qua dentro con questa bellezza straordinaria è una grande opportunità conoscevo Palazzo Abatellis avendo vissuto a Palermo vari anni e quindi conoscevo il trionfo della morte, un affresco bellissimo, molto potente si dice addirittura che Picasso si dice addirittura che Picasso si sia ispirato al trionfo della morte per Guernica certo non avevo mai avuto la possibilità di esserne a contatto per tanto tempo e insomma è veramente impressionante è un affresco che parla a zone anche non consce di noi e quindi solleva qualcosa di trionfale e mortale contemporaneamente però insomma ha una grande potenza comunicativa sicuramente fruire di questo affresco in un momento come quello del Covid fa ancora più impressione perché ci sentiamo tutti più sperduti, più persi e meno attrezzati verso l'ignoto qualunque infezione, qualunque malattia ci mette in una condizione diversa da quella che viviamo abitualmente e quindi è un'emozione ulteriore poterne fruire in un momento storico come questo Perché guardare il corto? Prima di tutto perché c'è il trionfo della morte e poi perché è opera di un giovane che ha lavorato su canoni diversi e perché si può vedere un palazzo a Batellis abitato da figure immaginifiche strane per cui spero che il viaggio che abbiamo fatto noi lo possano fare anche gli spettatori del corto Il cortometraggio, Che cos'è la notte? parte da una suggestione dell'associazione Meno che mi ha coinvolto in questa riflessione, in questo ripensare alla trasformazione alla luce di un anno molto particolare che tutto il mondo ha vissuto Il titolo potrebbe far poco sperare Il trionfo della morte in realtà sia per l'esegesi stessa dell'affresco sia perché il progetto artistico e tutta la manifestazione art vuole guardare in avanti si trasforma e si traduce in un trionfo della vita anche la storia particolare di questa donna una donna delle pulizie che lavora in un museo e che si ritrova a compiere un viaggio visionario forse perché è di fronte alla morte e ad assorbire le immagini dell'affresco all'interno di questo suo sogno, di questo suo viaggio in ogni caso questa possibilità le consente ci consente di riflettere sul valore della vita è sull'apprezzarla il più possibile questo viaggio è ovviamente un viaggio simbolico non ha la pretesa moralistica, didascalica, anche medievale dello spiegare la condotta e la vita da intraprendere per ognuno di noi ma può essere molto interessante interrogarci sul senso di questa morte che oggi è vissuta prettamente come un tabù e che il Covid ci ha rimesso in faccia con uno schiaffo molto brutale a cui ancora stentiamo ad abituarci quindi una riflessione che vuole attraverso il riflesso del trionfo della morte portare ad una migliore condizione di ripensare la vita è il luogo ideale per spiegare quello che intendiamo con memorie e nuove opere la memoria di questo luogo straordinario è una nuova produzione culturale di Marco Savatteri Casa del Musical con la partecipazione di Aia Forte all'interno del progetto Art che vuole ripensare le trasformazioni in corso soprattutto con riferimento alle trasformazioni che riguardano il rapporto con lo spazio e col tempo e il tema della morte inevitabilmente ha molto a che fare col tempo e col senso che riusciamo a dare al nostro tempo vissuto cerchiamo di analizzare il tema su cui stiamo lavorando con diverse forme artistiche e al tempo stesso di sperimentare anche nuove modalità di rappresentazione dovute ovviamente all'esigenza del Covid-19 ma cercando di elaborarle non soltanto riportando sul web quello che avremmo voluto fare in modo fisico e reale ma sperimentando nuove forme come quella per esempio della realtà aumentata che ci consente di visitare di vedere le opere di 12 artisti al Foro Italico a Palermo e a Piazza Pretoria sempre a Palermo ma anche direttamente dal web questo è un'ultima